Ma io e te la signora Barbara Boucher, che piacere, bentornata. Ma è quello che voglio dire, grazie di avermi richiamato per venire, perché sto sempre bene con te. Io sono molto contento che tu abbia accettato, perché ho una profonda stima per te, te l'ho dimostrato più volte, anche se non ci frequentiamo, non siamo ovviamente amici, però hai una grazia che francamente riscontro raramente nel mondo dello spettacolo e questo mi fa molto piacere. Innanzitutto, come stai? Che periodo è della tua vita? Benissimo, sto benissimo, ringraziando Dio. Ho superato il lockdown tranquilla, a casa, con 3.000 cose da fare, che non l'ho fatto in tutti questi anni. Un signore del nono piano è stato gentilissimo e mi ha portato da mangiare. Ma va? Sì? Come si chiama questo signore? No, non credo che vuole essere nominato. Ho solo il nome. Come? Solo il nome. Cosimo. Cosimo, è stato così gentile da portarti del cibo dal nono piano a dove vivi tu? No, no, io lo vedevo sempre che faceva le spese e lui ha detto ma se lei vuole io lo porto anche a lei. E io ho detto magari, così non devo uscire. Senti, questa galanteria maschile che solitamente le donne, le mie amiche, mi dicono sia molto rara negli ultimi anni, la riscontri spesso negli uomini la gentilezza, la galanteria o hai incontrato tipi di uomini diversi nella tua vita? Io ultimamente lo riscontro molto. Devo dire, le persone che mi circondano sono molto gentili, molto signore. Molto, io vado al bar sotto casa dai miei amici Steven e Giovanni. Giovanni? Mi chiamo Giovanni? Non te lo ricordi. Oddio. Perdonami amore, eh. Un lapsus. Perché tu la colazione la mattina la fai al bar? Sì, lo faccio al bar e incontro tutto il vicinato della mia casa. E vengono e un giorno sì, l'ho offerto un signore, l'ho offerto un altro signore e sono sempre ospite. Senti, sei particolarmente amata e so insomma che le persone, insomma... Ah, Giuseppe, eccomi arrivato. Giuseppe si chiama, il barista. Eh, bapè, che puoi fare? La vecchiaia. Dicevo, sei particolarmente amata. Che cosa, quando ti fermano le persone per la strada, che cosa ti dicono? Di cosa ti parlano? Maggiormente mi fanno i complimenti per la mia eleganza, la mia grazia. Maggiormente per quello. Ma è curioso perché negli anni, diciamo, in cui tu hai lavorato molto nel cinema, c'era un certo tipo di stampa che sosteneva che quel tipo di erotismo era un po' spinto. Io ho sempre pensato che quell'erotismo fosse molto elegante e a differenza di molte altre tue colleghe tu non hai mai peccato di volgarità. Come è stato possibile fare quel tipo di cinema e mantenere, diciamo, la regalità che ti contraddistingue? Ma, guarda, anche io mi sono domandata, perché vedo che i miei fans, le persone che si avvicinano, sono molte donne. Allora dentro di me mi sono sempre detto, ma che strano, donne che mi fanno i complimenti, eppure mi sono spogliata nei miei film, però si vede che non è mai stata offensiva. E quindi sarà così come sono. Hai visto che oggi l'erotismo ha come equazione il denudarsi, l'offrirsi, il manifestarsi perfino sui social, diciamo con, lo dico, questo riguarda i più giovani, ma non solo, con una disinvoltura che francamente rasenta altro che la volgarità, anche qualcos'altro. Che cosa ne pensi di queste ragazze, ma anche delle tue coetanee, che si, come dire, si manifestano su internet, sui social, in maniera costante, a volte, diciamo con, quasi, a volte senza vestiti anche. Ma io non lo vedo nei miei coetanee, lo vedo più nei giovani, le ragazze che magari si chiamano... Influencer. Nuova parola, influencer. Allora, ovviamente, oggi più like c'hai su questi Instagram, Twitter, Facebook, più sei famosa, più sei in augia. È tutto un mondo nuovo per me. Ma è un mondo, secondo te, pericoloso? È un mondo che durerà? È un mondo destinato a morire? È un mondo che ha delle contraddizioni? Come lo giudichi? Io penso che queste persone che si legano a questa cosa del social in modo un po' osè, diciamo, è una vita breve. Sono delle meteore, perché ogni giorno esce una nuova. e le trasmissioni producono le nuove ragazze molto sexy, molto spinte, cose varie. E quindi poi si presentano sui social, vedono che hanno tanto like e continuano, continuano, fino all'esaurimento. Poi arriva un'altra. Quindi per me sarà una carriera, non è una carriera, non lo posso chiamare carriera. È un modo di fare oggi. È esibizionismo. Però è bravo, questa è la parola giusta, esibizionismo, che non dura tanto. È molto, non è profondo come persone, non c'è profondità per queste persone. Tu sei stata talmente ostinata negli anni, talmente determinata, hai avuto talmente tenuta che sei riuscita poi negli anni ad avere dei ruoli che erano quelli che ti assomigliavano di più. Io ho visto delle cose degli ultimi vent'anni della tua carriera che sei stata veramente bravissima, perché sei riuscita a passare da icona di un certo tipo di cinema a interprete eccellente in alcune commedie, in alcuni sceneggiati televisivi. Io penso che tu hai pagato un gran prezzo perché hai atteso per tanti anni che ti riconoscessero il talento che tu sapevi di avere, o sbaglio? Ma io continuavo a dire fatemi vecchia, fatemi brutta, ma datemi un ruolo che sia data alla mia età. E finalmente, con Nonna nella Frisa, l'ho avuto. Era breve, molto breve, però mi ha dato tanto soddisfazione. Quel film ha girato il mondo. È stato il festival a Innsbruck, è stato il festival a San Francisco, me l'ha detto mio fratello. È viaggiato, è stato amato da tante e questo ruolo poi mi ha dato il via per avere altri ruoli di una donna della mia età, che non devo essere per forza bella, glamour e tutto quanto. Quello lo sono stata e dentro di me c'è ancora e modestamente anche fuori. Questo si nota ed è talmente visibile. Sai che Katia Ricciarelli la scorsa settimana ha fatto una riflessione molto profonda con il compagno di Samantha Togni, sono venuti a trovarci, che è un noto chirurgo estetico, in cui ha detto, mettendoci la faccia, secondo me chi ricorre alla chirurgia sfigurandosi tradisce un po' la sua estetica, la sua nobiltà, la sua fisicità. Tu cosa ne pensi di questo, del fatto che molte donne, giovani e meno giovani, ricorrono in maniera smodata spesso alla chirurgia estetica? Questa è un'altra moda, quella che io non ho deciso di seguire e penso che sono persone magari non molto sicure di se stessi. Io ammetto che sono fortunata, ho il DNA di mia mamma che vale tanto e quindi ammetto che non ho tutte queste necessità di farlo, però non mi piacerebbe di somigliare a tante altre persone. Sai che Katia ha detto la stessa cosa, la scorsa settimana ha detto il DNA di mia mamma mi ha dato questa pelle incredibile che ho, perché Katia ha una pelle francamente bellissima. Bellissima. Come no, ci conosciamo sì, Katia? Ci conosciamo da molto tempo. Guardate, splittate, sono due donne meravigliose. La cosa bella di voi due, vedendovi inquadrati, vi sto guardando nel programma come se vi vedessi da casa, è la naturalezza con cui portate gli anni della vostra vita ed è bellissimo verificarlo. Siete un esempio incredibile insieme. Guardate il taglio occhi, Salvatore Perfetto, vai stringi sugli occhi della signora Ricciarelli e sugli occhi della signora Boucher, guardate la bellezza. Ma Katia, la bellezza per te è stato un valore aggiunto nella vita o no? Prego, non sento. La bellezza per te nella vita professionale è stato un valore aggiunto o no? Beh, diciamo che nella mia professione, anche in quella di Barbara, sicuramente è stata molto importante. Per me forse più importante perché con la voce, insomma, se non avevi anche il fisico per certi ruoli non potevi morire tisica e poi essere 100 kg, insomma, ecco. Quindi bisognava anche avere un certo fisico. Io, peraltro, invidio quello di Barbara e non sono capace di fare tutto quello che fa lei, ahimè. Io non faccio ginnastica, sì, cammino, quindi... Ma il valore aggiunto lo è sicuramente. Però io ho avuto sempre la sensazione, Barbara, ti dico la verità, che tu, che la tua bellezza t'ha anche un po' annoiato negli anni. L'hai anche un po' mal sopportata. Non dico maledetta, ma è come se fosse ad un certo punto della tua carriera un peso. È una percezione giusta o mi sto sbagliando? Diciamo, a 39 anni ho deciso di lasciare il cinema perché non volevo che l'oro, diciamo, il produttore, non mi cercassero più. Volevo essere io l'artefice della mia uscita dal cinema e l'ho fatto. E ci ho messo vent'anni per rientrare. venti. Io pensavo dieci. Ci ho messo vent'anni. Hai vissuto la solitudine in quegli anni? Ti sei sentita sola, non capita, non apprezzata oppure no? No, 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 no. Io la solitudine non fa parte del mio essere perché so vivere bene con me stessa e mi organizzo. Ho tanti amici con i quali sto benissimo. Quali sono le passioni più prepotenti? L'amicizia? Prima di tutto l'amicizia. L'amicizia? Prima di tutto, guarda, quella è la cosa meravigliosa. Altre passioni? Ma altre passioni sono quelle più piccole, mi piace dipingere, adoro il giardinaggio, i fiori, le piante, tutto quello. Mi piace tanto viaggiare, ahimè, adesso sono bloccata, però ho interesse, mi piace, mi piace vivere e come ho detto vivo bene con me stessa. Tu hai una carriera incredibile che è molto difficile poter riassumere in 40 minuti. Io ho tentato, in questi giorni ho visto molti filmati che ti riguardano nelle te che hai, ho tentato di scegliere qualcosa di diverso di quello che solitamente viene mandato in onda quando ti intervistano e vorrei cominciare dal 1972 da un'edizione storica di Canzonissima. Guardate. Sì, 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 sia al centro che al nord che al sud solo qui c'è il mio Robin Hood solo lui è splendido agli occhi miei ha il fisico del playboy lavora alla Rai ragion di più per cui lo abbraccio davanti a voi il mio piano cuore il mio piano cuore il mio piano cuore Stonatissima! Cosa? Stonatissima! Ah, non mi sembra! Come no? Da quant'è che non rivedevi questo film? Ma questo... sono 50 anni che non lo vedo Non l'ho più vista Ti ho visto tra lo stupito stupita e preoccupata quando l'abbiamo mandato in onda eri come se guardassi qualcosa che non fossi tu Eh, lo so tante volte io guardo le mie cose come forse non sono io Devo dire quando vedo i vecchi film in questo momento passano 4-5 a settimana e mi li rivedo e io li guardo come... però... non mi ricordo questo Ma ti giudichi quando ti vedi da casa perché tutte le estate tutto l'anno trasmettono le televisioni i tuoi film Eh, lo so Quando ti vedi ti giudichi negativamente positivamente ti dai le pagelle ti dici ma mazza che brava che ero all'epoca oppure ti dici certo qui potevo fare questa cosa diversamente che tipo di giudizio dai a te stessa quando ti vedi? Beh, dipende dal film però tante volte io dico però ero bella Non mi critico tanto perché mi piace come sono stata Senti, ho tra le tue passioni c'è anche la cucina o no? La cucina per me possono anche murare lo sai Io non ho un grande rapporto con la cucina Sai perché ti ho fatto questa domanda? Purtroppo lo so lo so No, perché? Perché ho un figlio che è un grandissimo chef Ma ti sbagli Non ti ho fatto questa domanda per questo motivo Ma no, e perché? Perché tu tanti anni fa in un programma chiamato Io e il cibo 1980 parlavi già del tuo rapporto con il cibo Io ho rivisto questo filmato ed eccolo qua Si dice Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei Barbara Boucher Lei chi è? Una pillola Il suo rapporto col cibo è Una pillola una maschera Non lo so Io piuttosto di mangiare me lo metto addosso O lo bevo o lo ingoio In che senso me lo metto addosso? Se lo spalma il cibo? Si perché non so mi metto addosso il miele mi metto addosso la maionese mi metto addosso le banane mi metto E come fa a dichiarirlo? Come maschere come creme come per rigenerare la pelle cose varie E per nutrirsi? E per nutrirsi? Mi è un po' difficile infatti io non ho mai fame Veramente? No non ce l'ho proprio per me è una tortura di dover mangiare prima colazione pranzo ma ti rendi conto che dopo tanti anni hai dato la stessa risposta? Sì ma è così non è che ha cambiato niente Ma scusami ma non è cambiato neanche il fatto che ti spalmi il miele Certo non cambia io sempre uso il miele uso le banane uso le banane l'avocado uso ma perdonami l'olio d'oliva tutte le cose di cucina L'olio e il miele posso capire come si spalmano con facilità ma la banana come si utilizza? È una maschera Come? Una maschera per il viso Quindi tu tagli affettini e le banane No le frullo Frulli le banane Eh sì e poi a che ora si fa Lo mischio però con un po' di yogurt Ma questa è la prima volta che sento una cosa del genere Cioè quindi io devo io adesso torno a casa verso le quattro frullo una banana Un po' di yogurt e ti fai una bella maschera Ma questa maschera a che ora si deve fare? Qual è l'ora giusta per farla? Ebbene la speranza che mi tiene la mia pelle bella No dico ma la sera alle prime ore del mattino Ah no quando c'è il momento E fa bene la banana frullata con lo yogurt Ma mi guardi? Amore sì ma non pensavo che fosse la banana cioè diciamo il segreto della Io non frequento i centri estetici cerco di farla da sola e sono cose che mi ha insegnata mamma Allora signore non è arrivato l'arrotino ma arriva la banana a portata di mano voi la frullate ci mettete un pochino di yogurt e miele vi fate una maschera del miele anche ecco e fai una bella maschera mi pare meraviglioso sapere quello salutare senti prima mi hai anticipato perché siccome ti fanno delle domande spesso scontate quando si parla di cibo e le legano al successo di tuo figlio Alessandro esatto io ho pensato di non parlarne ma di far vedere dalla stessa dalla stessa trasmissione io e il cibo beh insomma in quell'intervista pensa te chi c'era c'era Ali che io lo imboccavo vediamolo insieme Alessandro tu devi mangiare il tuo yogurt vero? si lui mangia un yogurt e verso ogni giorno come merenda come merenda poi a cena quella che non faccio io lo faccio fare tutto lui lui a pranzo mangia ogni giorno pesce pollo carne cervello o fegato ogni giorno una cosa diversa con una verdura poi si mangia certe scodelle di frutta che io guardo non è possibile metto dentro una pesca una banana una prugna una mela tutte insieme e se la mangio poi alla cena invece mangio di meno perché non deve andare a letto con la pancia piena allora alla cena in genere c'ha la sua pasta il riso il semolino ma queste cose che si danno ai bambini i panini col burro lo zucchero mai zucchero proprio mai guarda da bambina sì doveva vuotare sempre il piatto mio nonno di ritiro mi faceva leggare il piatto per farlo vedere che era tutto mangiato perché eravate poveri o per una regola di vita no forse un po' tutte e due poveri sì ma sì c'era sempre il fatto che diceva tu devi mangiare perché pensa ai tutti poveri bambini che non c'hanno da mangiare cosa ti ha insegnato la povertà la povertà allora mi ha fatto diventare molto più forte mi ha fatto apprezzare il cibo mi ha fatto apprezzare la natura ecco la mia famigliola che carini guarda tu sei molto affezionata alla famiglia vivi in maniera molto profonda io proprio tanto tanto siamo sei fratelli e purtroppo l'anno scorso ho perso una sorella adorata che viveva con me però siamo proprio stritti 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 ci sentiamo sempre ci vogliamo tanto bene siamo siamo uno per l'altro sempre e quindi io voglio parlare con quelli che sono a San Francisco sono tre e mi è rimasto adesso solo un fratello quello là quello piccolino là Peter che vive vicino a casa mia e quella è l'altra sorella che ho perso posso permettermi di chiederti di rivolgere un tuo pensiero una tua riflessione a quelle persone che sono a casa in questo momento e che vivono un momento difficile da puntista economico che magari stanno conoscendo una nuova forma di povertà e che non sanno come dar da mangiare i loro figli come mandarli a studiare mi piacerebbe che dall'esperienza che tu hai vissuto quando eri più giovane potessi come dire regalare quello che vuoi una riflessione a chi sta a casa in questo momento era diverso quando io era giovane era molto diverso e all'epoca io vivevo in campagna e vivevo della natura le cose semplici le cose molto semplici e il mondo poi è cambiato io ho vissuto in città e ho avuto anche il benessere però le persone che soffrano oggi sono persone che magari già da sempre hanno un disagio e adesso ancora di più perché non hanno più lavoro io vedo per esempio mandare i bambini a scuola ma se i bambini non possono andare a scuola che fanno i poveri genitori che devono lavorare la speranza che hanno un lavoro e nessuno a casa con i bambini la vita è molto difficile adesso bisogna essere molto uniti nella famiglia ma uniti uniti perché insieme ce la fa insieme bellissima questa questa riflessione sull'unità familiare che poi è una forma di resistenza sociale cioè quando tu hai un'unità familiare anche se ci sono grossi problemi legati al lavoro all'economia quel tipo di amore di unità di solidarietà tra le persone di una famiglia beh insomma dà la forza a tutte le persone che fanno parte del nucleo io vorrei farti un regalo e chiedo alla regia di Salvatore Perfetto di inquadrare in maniera chirurgica gli occhi il taglio occhi di Barbara Boucher a cui voglio dedicare con stima e con e con affetto da quel jukebox questo brano a cui voglio dedicare a cui voglio dedicare I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I fit off More than I could chew But through it all When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all And I stood tall And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill My share of losing And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no Oh no, not me I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Yes, it was That's my way I put it at home And canto a squarciacola Cosa ti ricorda, Barbara? È la mia canzone Ma che... Che le parole È come fosse L'avesse detto io Ma che... Io penso così Che ricordi ti ha acceso Riascoltando? Ma tanti Della mia vita I ups and i downs Ripartire E superare E tutto Quella canzone per me È tutto Facciamo una cosa Andiamo in pubblicità E tra poco Torniamo a conversare Insieme a Barbara Boucher A Io e te Rimanete con noi A tra poco Quello che potremmo fare Io e te Mu farei io e te Ancora bentornati A Io e te Con Barbara Boucher Avete appena visto Il promo di Rete Che ricorda Il ritorno Di Millie Carlucci Con il suo Ballando con le stelle A partire da sabato 12 settembre Io sono molto contento Che Barbara Abbia accettato Questo invito È la sua prima Intervista televisiva In cui ovviamente Annuncia Il ritorno In tv Come concorrente Di Ballando con le stelle Io devo dirti la verità Lo voglio dire pubblicamente Farò dei gruppi D'ascolto Il sabato sera E ti ferò Solo per te Grazie Io mi auguro Che tu vinca Ballando con le stelle Anche perché Ho la sensazione Che tu Abbia Ma questo si sa La disinvoltura fisica L'allenamento La disciplina mentale Perché insomma Conosci L'esercizio Della disciplina Disciplina Ce l'ho tanta Questo sì Non ho più Tutta questa scioltezza Però Faccio il mio meglio Quando è quella che sarà Sarà Ti era stato proposto Già precedentemente O è la prima volta? Già due anni prima Però io ero sempre Sotto contratto Per il teatro Ah Quindi non potevi accettare E non potevo E questa volta È andato bene Con che spirito Farai questo Ballando con le stelle? Ma io lo faccio Per divertirmi Io lo faccio Senz'altro Sarà un bel gruppo Di persone Siamo tutte Nella stessa scappa Ti va di fare un gioco Giochiamo in anticipo Perché Lì c'è la giuria Che dà le pagelle Diamole noi Le pagelle Alla giuria Le dai tu Alla giuria? Alla giuria Allora Mariotto com'è Secondo te? Ma Mariotto Mi sa che Va bene con me Fabio Canino Anche Fabio Selvaggia Lucarelli Selvaggia? Non lo so Però dovrebbe andare bene Lei era La fidanzata La moglie Di un amico Di Alessandro Quindi Non so se Se la ricordo Dipende Dipende E come si sente Quello giorno Ivan Zazzaroni Ivan non lo conosco Quindi non so dire niente di lui Vediamo È finita la giuria no? No C'è Caroline Ah c'è Caroline Stiamo parlando però della presidentessa La vediamo per ultima C'è Caroline Quella è una garanzia di grazia Di disciplina Di professionalità Io Caroline Smith La adoro La trovo bravissima E io L'amiro tanto Per la sua tenacia Che sta portando avanti Come vi state organizzando? Perché con le misure Covid Le misure di sicurezza Questo non lo so Io Non avete cominciato le prove ancora? No Le prove iniziano il 23 Il 23 di agosto? Sì Il 23 agosto Però tu a differenza di molti altri concorrenti Non ti devi mettere in forma A far diete Guarda chi sei Hai un corpo incredibile Posso dirti che io Quando c'era il lockdown Con il telefonino Appoggiato al muro In un corridoio Perché non aveva lo spazio Largo In un corridoio avevo il telefonino E lui mi mandava i passi E io cercavo di seguirlo Poi mi correggeva Siamo andati avanti così Qual è il ballo su cui pensi Di essere più forte di altri? Quello che ti viene più naturale? Ancora non li ho provati tutti No, dico però Nel passato avrai ballato Io sarei più latino credo Ah, più latino? Eh sì Penso di sì Però, diciamo Il valser Il slow fox Con la grazia E quello Non mi dispiace Cosa ne pensi Della televisione di oggi? Che giudizio dai Dalla telespettatrice A quello che vedi Nei programmi televisivi? Di la verità Vedo poco Vedo poco Io mi guardo i film Maggiormente I telegiornali Mi spaventano All'inizio la guardavo E poi ho detto No, basta Non voglio più sapere niente Non Una volta al giorno Lo guardo E poi basta Non voglio essere attaccato Alla tv Che mi spaventa Con questa nuova malattia Che mi rende solo ansiosa Io devo essere forte Io devo essere Che ci credo E se mi fanno perdere Questa sicurezza Questa cosa Non va bene per me Io ti auguro il meglio Per Ballando con le stelle Se me ti divertirai tantissimo Mi autonomino Tuo Sostenitore Grazie Con il mio gruppo Di amici Con cui seguiremo Ballando con le stelle E senz'altro Ce l'hai tanti Quindi Ci conto Certo Contaci come Voglio però regalarti Prima di salutarti L'omaggio Di Lucangelo Bracci Ha fatto un Un ritratto oggi Veramente bellissimo Dentro Ci sono più citazioni Prima lo faccio vedere Ai telespettatori Alle telespettatrici Di Rai Uno Guardate come Lucangelo Bracci Ha il ritratto Barbara Boucher Adesso lo dono a lei E vorrei che tu lo commentassi Vedo che è l'occhio Di Casino Royale Esattamente Vero? Esattamente E con la figura Di Kelinda Di Star Trek Le ha accolte tutte Due icone L'hai messo Tutte e due insieme È diventata Kelinda Royale Grazie Grazie Lo tengo molto Ah ci la metto in cornice È un onore Guarda che un onore Lucangelo È un onore vero Avere il tuo disegno Incorniciato in casa Boucher Barbara Grazie Grazie di cuore Per essere venuta Grazie a te Ti voglio bene E tifo per te Ed è sempre un piacere Averti mia ospite A io e te Barbara Boucher Veramente è un privilegio Assoluto Averla avuta Nelleately Nelle niente È un onore